Telenova Giornale Il Consiglio Comunale di Ragusa approva, dopo una lunga maratona, il regolamento sulla Tares. Il Comune dovrà incassare, dalla nuova imposta, ben 13 milioni di euro para l'importo speso per il servizio di raccolta dei rifiuti. I cittadini pagheranno per intero il servizio. I gruppi di minoranza parlano di una stangata per le tasche dei ragusani. Sì, abbiamo presentato diversi emendamenti, tutti che vanno all'insegna di rappresentate delle categorie che sono svantaggiate. Abbiamo chiesto diversi tipi di sgravi su diverse categorie. L'unico emendamento, tutti gli emendamenti ad ora, fino in questo momento, hanno dato esito negativo. Non vengono, riscontriano dall'altra parte un gruppo di maggioranza coeso, compatto, sordo e non riesce a recepire nessun tipo di emendamento. L'unico che è passato all'unanimità è un emendamento che abbiamo presentato come minoranza, io come primo firmatario, che va a rivalutare il centro storico. Perché abbiamo più volte detto che il centro storico via Roma è bella, sì, ma è vuota. Si deve fare di più per il centro storico. Per fare qualcosa del centro storico dobbiamo portare le attività nel centro storico. Per portare la gente ci devono essere attività. E il nostro emendamento è andato verso questa direzione. Chiediamo uno sgravio del 100%, abbiamo chiesto uno sgravio del 100% sulla Taves per tutte le nuove attività che si insediano sul centro storico, per i primi tre anni di attività. Questo è stato accolto favoritamente dal resto dei consiglieri e è passato all'unanimità. Di questo ne siamo grati. Speriamo che anche gli altri emendamenti che abbiamo presentato vedano il voto favorito da parte degli altri consiglieri. Perché vanno tutti a difesa di categorie che hanno bisogno e in questo momento di crisi non possono pagare un'ulteriore tassa. Abbiamo visto l'aumento del Limo che è fatto in realità di 5 milioni di euro al Comune. Questa è un'ulteriore mazzata alle trasche dei ragusani e crediamo che alcuni non possono pagare. Per questo facciamo questi emendamenti, per difendere queste categorie. Qual è la chiave di lettura dal punto di vista politico? Che date? Dal punto di vista politico stiamo cercando di far ragionare i consiglieri su alcuni aspetti. L'aspetto è quello che non si può pensare solo per risolvere un problema, aumentare le tasse. Bisogna avere una strategia che sia diversa da quella di mettere le mani in tasca ai cittadini. Bisogna trovare altre soluzioni, altre soluzioni che possono far riprendere ragusa e ragusani. L'impianto generale della Tares è stato ridiscusso, si stanno votando gli emendamenti proprio in aula stasera. Insomma, tutto sommato i lavori stanno procedendo abbastanza bene. L'impianto della Tares scaturisce da una legge dello Stato, la 102 del 2011, che è la legge Salve Italia. Questa legge effettivamente è stata modificata dalla 104 del 31 ottobre, che dava la possibilità al Comune di poter continuare ad applicare la Tares, la Tassu, per cui si poteva anche non applicare la Tares. Però nel decreto 104 lasciava a Comune comunque l'obbligo di coprire i costi e lasciava comunque l'obbligo di pagare lo 0,30 per il servizio indivisibile. Per cui comunque ci sarebbe stato un aggravio di costi nei confronti dei cittadini. Per cui anche se si lasciava la Tares, comunque bisognava ripartire questi costi e avrebbe comunque comportato un aggravio. Di buono, tra virgolette, che di buono in effetti sulla Tares non ecce sia tanto, c'è una legge un po' contestata. Però di buono c'è che si instaura un principio. Il principio di chi più inquina più paga. Questo è l'unico aspetto positivo, se vogliamo, della Tares. Per cui la Tares ha un impianto che ci sono delle tariffe, dei coefficienti che in base all'attività che si svolge o in base ai componenti del numero familiare vengono applicate alle tariffe diverse. Rispetto alla Tares che invece non distingueva questo ma guardava soltanto i metri quadrati della superficie. Ci saranno pertanto dei contribuenti, dei cittadini che pagheranno meno e qualche cittadino che pagherà di più. Piccoli esempi. La persona che vive da solo si troverà a pagare meno perché i coefficienti lo premeranno. Le persone che sono 4 o 5 si troveranno a pagare un po' di più. Così come ci saranno alcune attività che pagheranno meno perché inquinano poco e altre attività che pagheranno un po' di più perché inquinano di più. Questo è il principio della Tares. La situazione delle finanze degli enti locali è drammatica. In alcune realtà, vedi il Comune di Ragusa e Santa Croce e Camerina, i tagli imposti dal fondo di solidarietà potranno incidere in maniera rilevante sui servizi. Gli amministratori locali sono pronti ad iniziativa di protesta anche eclatanti. Assolutamente sì. Al di là della vicenda specifica del Comune di Comiso, che è in sesto finanziario, lo stato dei trasferimenti sia dal nazionale che dal regionale comincia ad essere di difficile gestione. A Comiso noi abbiamo su 5 milioni di euro di fondo di solidarietà nazionale ricevuto sinora 3 milioni di euro e siamo in attesa dei 2 milioni di residui. La Regione ha stanziato un milione di euro e ci ha dato per ora soltanto 160 mila euro. A questo dobbiamo aggiungere anche la situazione dell'Imu perché con questo discorso per cui l'anno scorso si è deciso di lasciare ai Comuni il gettito dell'Imu e poi quest'anno si è cominciato a dire che non si paga, forse facciamo un trasferimento sostitutivo. E vi dicendo, prima rata, seconda rata, se non si chiarisce bene questa situazione rischiamo di andare al collasso per mancanza di trasferimenti con rischio anche per gli stipendi dei dipendenti comunali. Guarda, è l'impossibilità alla programmazione. Cioè non abbiamo certezze sui trasferimenti da parte della Regione e dallo Stato centrale. Sappiamo a Singhiozzo, all'ultimo momento sappiamo quelli che sono i trasferimenti. E questa è una cosa gravissima perché noi siamo quelli che dobbiamo tutelare i cittadini, dobbiamo erogare i servizi ai cittadini e non abbiamo mai un momento di tranquillità sulla certezza di quello che possiamo mettere a disposizione dei cittadini. Così perché tutti i trasferimenti, i mancati trasferimenti poi vengono legati sicuramente all'aumento delle tasse locali. Il messaggio che si dà ai cittadini è questo. Tutto quello che si fa a Roma poi va a ripercortarsi sui cittadini proprio anche sui comuni su questa differenza. Quindi da una parte dobbiamo lottare per erogare i servizi e per non deprimere ancora di più quello che è il mercato interno all'interno anche delle aziende di quella che è la richiesta dei cittadini. Dall'altro però c'è uno stato centrale che va a emanare provvedimenti tagliando in modo orizzontale completamente quelli che sono i trasferimenti e i comuni mettendo in difficoltà. Noi come comuni di Modica io rassicuro ai cittadini che abbiamo messo in piedi un bilancio già equilibrato e quindi già per fortuna che da qualche mese lavoriamo anche su evidenze del genere. Quindi credo che alla fine non avremo problemi a portare quelle correzioni che porteranno sicuramente a non cambiare quelle che sono le linee di guida economica. Questo rassicura ai cittadini che noi continueremo ad aumentare quelli che sono gli stanziamenti per le famiglie e per sostegno alle famiglie e alle imprese. Su questo nessuno metterà in dubbio questo tipo di politica perché la decidiamo noi e noi andremo in questa direzione. Invece faremo una lotta proprio senza nessun risparmio di energia all'evasione totale. C'è una sacca profonda nel nostro comune di evasione totale quindi persone mai messe a ruolo e specialmente anche enti e grossi gruppi che non sono mai state messe a ruolo e quindi su questo noi ci concentreremo proprio per allargare quella che è la base imponibile delle tasse proprio per cercare così di non colpire le famiglie meno ambienti le famiglie che hanno bisogno invece di colpire chi può pagare e chi non ha pagato per tutti questi anni. Quindi su questo ci concentreremo per quest'anno e per il prossimo anno in questa direzione proprio per dare la possibilità poi avere i fondi necessari per investire sul nostro comune ma la preoccupazione maggiore è quella che chi ci sta sopra quindi la regione e lo Stato centrale non ci mette in condizione di poter lavorare serenamente e di poter capire già all'inizio dell'anno quelli che sono i trasferimenti e non che ci vengono comunicati alla fine dell'anno quelli che sono i trasferimenti rispetto a tu ai impegni già che hai preso nei confronti dei cittadini. In occasione della settimana europea per la riduzione dei rifiuti il comune di Ragusa in collaborazione con il Vocri e il Lega Ambiente invita la cittadinanza a consegnare oggetti vecchi ma ancora di valore e non più utilizzabili presso il centro comunale di raccolta di Via Pessum nell'area artigianale. Il 22 novembre presso lo stesso centro il comune di Ragusa assicurerà la ridistribuzione gratuita degli oggetti raccolti a chiunque ne abbia necessità o che manifesti interesse. L'obiettivo è quello di realizzare azioni concrete attraverso scelte di consumo consapevole promuovendo la raccolta differenziata ed evitando inutili sprechi. In tale modo si allungherà la vita di ogni prodotto si getteranno meno rifiuti in discariche con vantaggi di natura anche economica per i singoli cittadini. Noi partecipiamo alla quinta edizione della settimana europea la riduzione dei rifiuti perché la riduzione dei rifiuti rientra e fa gli obiettivi dell'Unione Europea quindi non è soltanto una questione di raccolta differenziata ma ridurre il volume dei rifiuti. Noi partecipiamo quest'anno con due iniziative una è quella della distribuzione di circa 600 compostiere domestiche che vanno a ridurre la quantità di umido che viene conferita a servizio pubblico e a questi cittadini che hanno a disposizione ovviamente uno spazio verde verrà riconosciuto poi sul latare il 10% di riduzione. L'altro invece è un vero e proprio riuso si tratta di allungare la vita dei beni quindi stiamo invitando tutti coloro che hanno dei beni a casa che non utilizzano più e che prima o poi finiranno smaltiti di metterli a disposizione nei confronti di chi ne ha bisogno sappiamo che la situazione economica è abbastanza tragica ci sono persone che hanno bisogno praticamente di tutto e probabilmente questi beni che verranno messi a disposizione potrebbero essere estremamente utili parliamo di cose varie possiamo parlare di culle carrozzine zaini pentole posate non abbiamo messo gli indumenti perché è già un circuito che è servito da associazioni Ollus ci sono tavoli sedie quindi mobili elettrodomestici piccoli elettrodomestici che possono funzionare perché si può cambiare una lavatrice non perché si è rotta ma perché se ne vuole utilizzare una migliore quindi facciamo questo da oggi fino a mercoledì prossimo chiunque può portare questi beni al centro comunale di raccolta di via Pesto nella zona artigianale poi giorno 22 venerdì 22 apriremo ai cittadini chiunque ne abbia bisogno si può andare a scegliere quello che serve e lo può portare a casa riteniamo che questa sia una strategia come dire che segue anche il piano nazionale di riduzione dei rifiuti presentato dal ministro Orlando il 9 di ottobre quindi ci muoviamo in linea sia con le indicazioni europee sia con le indicazioni del governo italiano in prospettiva potrebbe diventare un qualcosa di costante al momento è un'iniziativa in un momento all'interno di una manifestazione nazionale se ce la faremo quindi dobbiamo vedere anche le condizioni il centro comunale di raccolta di via Pesto in zona artigianale potrebbe rappresentare un posto dove quotidianamente chi ha qualcosa da buttare non la butta ma la conferisce e chi ne ha bisogno può venirselo a prendere oltre ad essere delle bravissime ladre professioniste specializzate in furti presso i centri commerciali erano anche delle bravissime attrici ma Elisabetta Schiavone 45 anni e Anna Romano 48 anni entrambe siracusane alla fine sono state arrestate dagli agenti gli stessi agenti i poliziotti di una volante che erano intervenute in questo centro commerciale all'interno di via Napoleone con la Ianni a Ragusa per rebloccarle le donne erano state trovate con poca merce rubata di scarso valore ed erano riuscite a convincere essendo appunto delle bravissime attrici e gli agenti di aver rubato i generi alimentari per motivi di necessità perché vivevano in uno stato di povertà i poliziotti stavano per pagare per conto l'oro ma poi da una perquisizione la sorpresa le donne sono state trovate in possesso di 500 euro in contanti e libretti postali con oltre 7.000 euro in deposito e non solo all'interno dell'auto che è stata a sua volta perquisita è stata rinvenuta merce per centinaia di euro cornici in argento generi alimentari di lusso vestiti accessori da donne su pelletti livari e cosmetici e provenienti da diversi esercizi commerciali a distanza di pochi metri l'uno dall'altro un ricorso al tar per bloccare il piano spiaggia approvato dal consiglio comunale di santa croce nel 2011 lo strumento di pianificazione manca delle linee guida aggiornate con il decreto assessoriale 96 del 2011 emanate dalla regione un inghippo non di poco conto visto e considerato che lo strumento di pianificazione del litorale dovrebbe dare un impulso decisivo in materia di turismo nei luoghi di montalbano la federazione italiana balneare aderente alla confcommercio ragusana preannuncia battaglia dinanzi al tribunale amministrativo regionale abbiamo chiesto all'ufficio urbanistica del comune di santa croce di rivedere in toto il piano spiaggia spiega il presidente della fiba antonello firullo spiegando in maniera dettagliata che manca delle nuove linee guida e dunque da considerarsi assolutamente nullo è stata approvata in fretta e in furia dalla precedente amministrazione senza che i consiglieri comunali ne avessero a piena contezza ci risulta inoltre che un operatore del settore ha chiesto al comune di poter ampliare la propria struttura ma la richiesta è stata respinta la fiba provinciale proseguirà la sua battaglia nelle sedi giudiziarie l'unica vera novità del piano spiega firullo approvato in maniera illegittima dal comune di santa croce è una spiaggia attrezzata per gli animali tutto ciò ci sembra inaudito in un territorio che a parole dice di essere a forte vocazione turistica ma nei fatti vengono ostacolate qualunque forma di insediamenti e di strutture al servizio del turista visione futura è un progetto da realizzare con la partecipazione della Caritas di Ocesana e di Rotary Club che ha segnato a 6 scuole della provincia una borsa di studio di 2000 euro per ciascuna scuola da destinare alle attività previste dal progetto che consistono in un certo numero di ore di sostegno linguistico sociale e psicologico per alcuni immigrati appena giunti ad Arragusa e da inserire nelle classi in un percorso per tutti gli alunni di 21 ore sul tema dell'intercultura della pace e della risoluzione pacifica dei conflitti gli istituti beneficiari del progetto sono il comprensivo Psamodi di Camerina di Santa Croce Camerina la scuola Giovanni Pascoli di Ragusa sia la primaria che la secondaria di primo grado la scuola media statale Vannantò di Ragusa e l'istituto magistrale statale Gian Battista Vico del capoluogo il progetto prevede la erogazione di borse di studio o meglio di borse agli istituti a questi quattro istituti scolastici di 2.000 euro ciascuno e ci saranno ecco dei professionisti individuati dalla Caritas che avranno il compito di fare delle docenze all'interno delle classi o di far intervenire i mediatori interculturali in assolutamente piena concordanza con gli istituti scolastici questo è un po' uno delle sfide anche del progetto quello di valorizzare le risorse che hanno i soci rotariani quindi sono tanti professionisti che mettono a disposizione il proprio tempo congiuntamente all'equipe della Caritas e congiuntamente alle grandi risorse che gli istituti scolastici messi in campo possiedono si farà sintesi di tutto questo per dare delle risposte e fare in modo che anche l'approccio all'integrazione all'intercultura sia una cosa nuova anche se già vissuta da diversi istituti ma che coinvolge realtà sociale realtà della pubblica amministrazione e del privato sociale l'obiettivo rientra in quello che è un disegno più ampio che è curato dalla fondazione Rotary nel caso specifico i moduli da attuare attengono da una parte alla risoluzione dei conflitti e dall'altra all'alfabetizzazione si destinano questo secondo all'inserimento dei giovani degli alunni soprattutto di età più piccole che vengono a ritrovarsi all'interno di istituti scolastici senza che abbiano quelle basi necessarie per poter affrontare l'anno scolastico dall'altra l'altro modulo invece cura l'inserimento dei giovani adolescenti nell'ambito della società in cui si ritrovano in funzione di una loro di un loro inserimento all'interno della stessa di una come dire adeguamento a quelli che sono i principi di quella società e a sua volta la società stessa che tiene conto di quelle che sono le problematiche le difficoltà di questi giovani che provengono da mondi completamente diversi e con problematiche difficilissime quale possono essere la guerra la povertà la carestia e quindi il compito di questo progetto la parte del Rotary è stato quello di portare avanti questi moduli avvalendosi di un sostegno insostituibile quale può essere quello della Caritas beni culturali turismo integrato tra Comiso e la Sicilia meridionale realtà valenze potenzialità economiche e prospettive di sviluppo tre giornate di studio promosse dalla soprintendenza di Ragusa con il sostegno di enti pubblici e privati si inizia il 15 di novembre a Comiso alla sala convegne dell'aeroporto il giorno dopo a Ragusa la viutorme della Camera di Commercio con iniziativa sulle attrattive turistici reali delle eccellenze dei beni culturali infine il 17 di novembre a Modica alla sala Borsa e Pippo Tumino un convegno dal titolo marketing e strategie territoriali per lo sviluppo del turismo è un momento particolare perché abbiamo pensato di fare un momento di riflessione articolato in tre giornate di studio che si svolgeranno tra Comiso Ragusa e Modica sul problema dei beni culturali la loro messa in rete per poter rilanciare il turismo non solo del territorio ragusano ma anche di quello della Sicilia meridionale nel quale insiste un patrimonio culturale davvero unico e straordinario sabato 16 novembre Salvatore Adamo arriva a Comiso la prima personalità di origine comisana conosciuta in tutto il mondo farà scalo nella sua città natale con il volo delle 18.45 di Rainair direttamente dal Belgio accompagnato alla troupe televisiva della tv di Stato Belga che sta girando un reportage sulla sua vita Adamo torna a Comiso per festeggiare contemporaneamente i suoi 70 anni e i suoi 50 anni di carriera discografica e musicale il sindaco Filippo Spataro e la giunta consegneranno all'arrivo dell'artista internazionale un riconoscimento per l'illustre cittadino di origine comisana oltre agli amministratori comunali sono stati invitati alla cerimonia i due deputati regionali Pippo Di Giacomo e Giorgia Senza e tutti i consiglieri comunali e assieme alle rappresentanze istituzionali è stata invitata a partecipare anche tutta la cittadinanza mi fai un patsy